Ben ritrovati con l'informazione locale di Unica TV. Partiamo come di consueto dalle notizie della provincia di Sondrio. Abbiamo insieme i nostri titoli di oggi. Dopo la maxirissa di Villa di Tirano tra i tifosi di Sampdoria e Como, la questura ha identificato i primi tre soggetti, sono ultra del Como, raggiunti da DASPO per due, sei e sette anni. A due di loro obbligo di firma, un contributo di 210 euro per acquistare il materiale didattico scolastico. Il fondo proviene da Regione Lombardia e sosterrà 1.685 studenti della provincia di Sondrio nel prossimo anno scolastico. A dieci anni, dall'ultima edizione, il 20 agosto, torna la Val Malenco-Val Poschiavo Sky Race, percorso di 30 km e 1.800 m di dislivello positivo tra gli alpeggi della Val Malenco con arrivo a Poschiavo. Vediamo i servizi. Identificati i primi responsabili della rissa tra gli ultradi come Sampdoria a Villa di Tirano. Lo scorso 16 luglio, infatti, gli esponenti delle due tifoserie armati di bastoni e cinghie avevano dato vita a una violenta rissa. Subito sono iniziate le indagini e gli investigatori della Polizia di Stato hanno già riconosciuto i primi tre soggetti appartenenti alla frange estrema della tifoseria del Como Calcio. Il questore della provincia di Sondrio, Carlo Mazza, ha così emesso a loro carico provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, rispettivamente per due, sei e sette anni predisposti dalla divisione Polizia Anticrimine della Questura Sondriese. Per due di loro è stato anche disposto l'obbligo di firma e proprio per scongiurare altri episodi di violenza in occasione delle concomitanti amichevoli Sampdoria, Propatria e Como Torres che si sono disputate lo scorso 23 luglio a Livigno e Bormio sono stati attuati straordinari servizi d'ordine pubblico e di pattugliamento lungo la Statale 38 che hanno coinvolto tutte le forze di polizia sotto il coordinamento del questore di Sondrio e che hanno garantito il pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive. La Digos e la Polizia Anticrimine di Sondrio stanno procedendo all'identificazione e alla successiva denuncia e diffida di tutti i soggetti coinvolti nell'episodio di Villa di Tirano. Notata di interventi, quella tra lunedì e martedì per i vigili del fuoco in provincia a partire dalla serata e fino a questa mattina sono state una ventina le uscite legate all'ondata di maltempo che ha interessato anche Valtellina e Valchiavenna sedi permanenti e volontarie del comando di Sondrio hanno lavorato prevalentemente per allagamenti piccoli smottamenti, taglio piante, rimozione dei triti e parti pericolanti. I vigili del fuoco sono inoltre intervenuti in soccorso di due automobilisti rimasti bloccati nel sottopasso di via della Polveriera a Tirano e hanno gestito l'assistenza per la frana che è interessato alla stada provinciale 21 nel comune di Teio, secondo i dati diffusi dalla regione dalla serata di lunedì alla mattinata di martedì sulla provincia di Sondrio sono registrati cumulate di pioggia massime pari a 49 mm tra gli interventi di protezione civile segnalata la frana che ha interessato la strada statale 38 a Valli Sotto con materiale rimosso da Anas nessun disagio per la circolazione deve scontare 7 anni e 7 mesi di reclusione per numerosi furti in abitazione commessi negli anni 2018 e dal 2018 al 2020 nei comuni di Morbegno, Traona, Piantedo, Cosio, Valtellino e Talamona per questi reati carabinieri di Delebio insieme ai colleghi della stazione di Gravedona hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza nel mese di aprile nei confronti di un 42enne di Morbegno di fatto senza fissa dimora l'uomo rintracciato dai militari di Delebio in un'abitazione di Gravedona è stato arrestato e portato in carcere a Sondrio come disposto dall'autorità giudiziaria revocata l'ordinanza sindacale che da venerdì imponeva a Sondrio di bollire l'acqua per il consumo umano i parametri microbiologici sono rientrati entro le soie di legge come confermato dai riscontri di oggi da parte di ATS della Montagna nessuna limitazione dunque per l'utilizzo dell'acqua nel capoluogo vediamo gli altri servizi un contributo da Regione Lombardia per gli studenti della provincia di Sondrio a partire da mercoledì 26 luglio sarà assegnato il contributo da 210 euro per la dote scuola componente materiale didattico e per le borse di studio statali a sostegno degli studenti di famiglie con ISE non superiore a 15.700 euro dalla misura beneficeranno quasi 164.000 studenti lombardi di questi 1685 vivono in provincia di Sondrio le risorse assegnate in continua crescita ammontano a 34 milioni di euro un milione in più rispetto a quanto stanziato nel 2022 per la provincia di Sondrio la quota è di 353.850 euro Regione Lombardia ancora una volta si dimostra tempestiva commenta l'assessore all'istruzione Simona Tironi è infatti la prima a livello nazionale a erogare queste risorse che garantiscono un sostegno concreto alle famiglie dei 1685 studenti della valle sono 1410 coloro che riceveranno il contributo per l'acquisto di libri e materiali didattici per l'anno scolastico grazie a risorse pari a 296.100 euro poi ci sono i 275 studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia che non hanno compiuto 21 anni d'età e con ISE non superiore a 15.748,78 euro che riceveranno la borsa di studio statale erogata direttamente dal ministro dell'istruzione l'investimento complessivo di fondi nazionali per il territorio della provincia è pari a 57.750 euro seconda edizione per Birfort la manifestazione dedicata all'upolo e alle birre artigianali locali dell'area archeologica di Belfort a Piuro dal 28 al 30 luglio 8 birrifici esporranno il proprio prodotto brassicolo artigianale e 6 espositori di Piuro porteranno i prodotti della tradizione un mini expo dedicato alla storia alla vita e al futuro della filiera brassicola nelle Alpi Retiche il tutto accompagnato da festa e musica la novità di questi tre giorni saranno i workshop gratuiti e le degustazioni accompagnati dai mastri birrai si comincia venerdì con l'apertura dei percorsi e del beer shop e i laboratori a tema lupolo sabato e domenica tra le varie iniziative anche la visita al lupoleto di Piuro in collaborazione con Ersaf l'evento è organizzato attraverso il consorzio per la promozione turistica della Val Chiavenna il comune di Piuro Ersaf Regione Lombardia BIM provincia di Sondrio e comunità montana della Val Chiavenna oltre al supporto e patriocinio della condotta Slow Food del Mera dell'associazione Italo-Svizzera per gli scavi di Piuro e dell'associazione fondiaria Piuro vera anima della filiera del lupolo del paese Due valli, una gara così si presenta la Valmalenco Valposchiavo Sky Race un ritorno atteso da tanti appassionati che si correrà domenica 20 agosto sui 30 km di sentieri a cavallo tra Italia e Svizzera Dopo dieci anni dall'ultima edizione un po' tramite anche i lavori che come amministrazione comunale si sta facendo con l'Interrec abbiamo deciso diciamo di riprendere questa gara visto un po' anche al di fuori atleti continuavano a ripetere perché la scheria non si fa più perché era una bella gara e alla fine un giorno mi sono incontrato con Dario che era il presidente iniziale nel 2002 della Sky Race Valmalenco Valposchiavo io ho detto dai almeno un'edizione dobbiamo riuscire a organizzarla pure di ripeterlo sono riuscito a convincerlo e eccoci qua diciamo siamo qua per questa si può dire prima edizione però infatti sarebbe la prima edizione della Valmalenco Valposchiavo noi abbiamo chiuso a 350 tutt'oggi siamo sui 210 atleti e abbiamo ancora quasi un mese per la chiusura delle iscrizioni ci aspettiamo tanti atleti da 10 anni dall'ultima edizione e 22 dalla prima e essendo anche per la Poschiavo per la Svizzera è l'evento più grande che avevamo e mancava un bel evento una festa come era sempre stata una gran gara un arrivo a Poschiavo arriva nella piazza di Poschiavo ed è un evento bellissimo per la Valposchiavo e aspettiamo un bel gruppo di atleti ma noi vogliamo fare che sia una gara più popolare la mia idea sarebbe magari di rifarla all'incontrario arrivando a Lanzada però mantenendo il percorso uguale a quello dall'andata Rieccoci con l'informazione da Lecco e dal suo territorio vediamo insieme i nostri titoli di oggi da inizio dell'anno all'Ecco sono scomparse 63 persone 10 casi al mese un record assoluto siglato in prefettura un protocollo fra enti e forze dell'ordine per facilitare le operazioni di ricerca la federazione italiana giococalcio sposa la battaglia dell'Ecco e difende la promozione serie B conquistata sul campo a decidere sul destino dei blu celesti sarà però il Tar del Lazio il comune di Lecco candida l'immobile di via Marco doggiono per la realizzazione di studentati dubbi e critiche dell'opposizione una scelta di ripiego dopo aver cancellato il nuovo municipio vediamo il primo servizio nel 2022 in Italia sono scomparse oltre 24.000 persone circa 67 ogni giorno un dato in continua crescita anche nel territorio lecchese come dimostra il numero delle segnalazioni avvenute finora quest'anno quest'anno abbiamo avuto un numero il numero più alto insomma di questo territorio non avevamo mai finora registrato una media superiore alle 50 unità di segnalazioni non tutte poi danno luogo a concrete attività di ricerca quest'anno siamo già a 63 quindi ampiamente sopra media ci avviamo alle 10 segnalazioni al mese che sono francamente tante e abbiamo delle situazioni che sono ben note che ancora non abbiamo definito non sono state ritrovate le persone scomparse quando giunge in prefettura la segnalazione per una persona scomparsa innanzitutto si mette in moto la macchina investigativa coordinata dalle forze di polizia per capire se si tratti di un caso di allontanamento volontario o meno per 5 delle 63 segnalazioni ricevute quest'anno la prefettura ha valutato di aprire un piano di intervento e dunque di ricerche per persona scomparsa se siamo come spesso accade di fronte a un allontanamento volontario che quindi non comporta l'attivazione del piano ma comunque l'inserimento di quella notizia oltre che per i profili investigativi in un database nazionale se invece ci troviamo realmente di fronte ad uno scomparso quando la persona è un soggetto fragile come spesso accade o per una fragilità fisica o per una fragilità psicologica o anche quando si tratta di minori il report della prefettura è stato presentato in occasione dell'approvazione del nuovo piano provinciale che definisce le competenze nelle operazioni di ricerca nei tre scenari territoriali individuati urbano fluviale lacustre e montano la segnalazione alla prefettura perché poi attivi il piano proviene dalle forze di polizia per lo scenario urbano il capoluogo dalla polizia di stato e dall'arma dei carabinieri per il resto del territorio poi il coordinamento operativo spetta ai vigili del fuoco invece in ambito montano c'era la necessità di coordinare le varie risorse le due che vi ho detto oltre a quella del corpo nazionale alpino e spiologico e lo avete sentito dal servizio Alecco sono cinque le persone scomparse per le quali la prefettura ha attivato il piano di ricerca in questi sette mesi del 2023 tre di loro sono state ritrovate due uomini di cui ancora non si attraccia si tratta di Ivan Sirtori il quarantanomeno ricolle Brianza scomparso nel mese di giugno e dell'ottantenne ricolico proprietario dell'imbarcazione trovata alla deriva nella giornata di venerdì in questo caso proseguono le ricerche anche con dotazioni tecnologiche in grado di arrivare a 600 metri di profondità nell'acqua continuiamo a cercare spiega il prefetto di Lecco Sergio Pomponio anche se le difficili condizioni meteo di questi giorni hanno reso ancora più complicate le operazioni di ricerca nel lago vediamo gli altri servizi avrebbe dovuto ospitare il nuovo municipio se tutto andrà bene diverrà uno studentato con 200 posti con 16 volti a favore 10 contrari il consiglio comunale di Lecco ha approvato la proposta di candidare l'immobile di via Marco D'Ogiono al bando del piano nazionale di ripresa e resilienza per ospitare nuovi alloggi universitari da consultazioni che ho avuto modo di sviluppare in maniera informale tra i principali stakeholder del nostro territorio che la scelta che sottoponiamo al consiglio comunale questa sera sia una scelta di grande lungimiranza e rispetto alla quale dobbiamo vedere una opportunità perché essendo un bando non è detto che vada a buon fine noi attiviamo un processo attiviamo un processo di candidatura di un immobile il quale dovrà essere poi visionato selezionato periziato e sul sul cui anche prezzo d'alienazione dovremo trovare un punto di accordo se fosse difforme rispetto a quello che noi proponiamo faccio però presente che nella nostra delibera è scritto esplicitamente al punto 7 che noi aderiamo all'OPA con un prezzo di acquisizione che non potrà essere inferiore ai costi già sostenuti quindi quella cifra che dicevo prima ed è lì l'iscritto e il motivo per cui abbiamo formulato questa offerta sulle barricate l'opposizione scontato il paragone fra lato con il quale maggioranza e minoranza compatte votarono una proposta avarata dalla giunta Brivio di realizzare in quello stabile il nuovo municipio una scelta non perseguita dall'attuale maggioranza Emilio Minuzzo capogruppo di Lecco merita di più ha parlato per questo di un provvedimento ambulanza per salvare la faccia al centro-sinistra dopo il dietrofront sul comune caustico l'ex assessore ai lavori pubblici Corrado Valsecchi ora in opposizione se il bando venisse rigettato dichiara o peggio il mandatario governativo dovesse chiedere uno sconto sull'acquisto che cosa succederebbe se invece andasse in porto dovremmo ringraziare il governo a parole tutti con il Lecco nei fatti però saranno il Tar e il Consiglio di Stato a decidere se la società blu celeste giocherà come meritato sul campo la serie B oppure se sarà clamorosamente esclusa causa dell'ormai nota pecca arrivata con qualche giorno di ritardo e di fatto condannata a sparire dal calcio il Consiglio federale della FIGC ha stabilito l'ordine dei ripescaggi se Lecco e Regina non saranno ammesse alla serie cadetta al loro posto subenteranno Brescia e Perugia la federazione si schiera con la società di Via Don Pozzi la FIGC sarà al fianco dell'Ecco nel ricorso al Tar contro l'inattesa decisione del collegio di garanzia del Coni che ha bocciato la riammissione dell'Ecco decisa dalla stessa federazione accogliendo la richiesta del Perugia l'udienza è fissata per mercoledì 2 agosto dopo il presidente della FIGC Gravina anche il numero 1 della Lega B Balata sposa la causa Blu Celeste nel momento nel momento in cui si definiscono le nuove date si va a porre la finale di ritorno il 18 quindi in maniera successivamente alla scadenza per la dimostrazione dei criteri infrastrutturali che era prevista per il 15 fatevi una domanda e datevi una risposta certamente l'Ecco non è un'associata per la Lega B credo che questa roba sia una vergogna credete me lo dico con molta chiarezza una vergogna vedremo poi aspetteremo ovviamente e adempiremo a quelle che sono le decisioni dei giudici e dei tribunali che dovranno intervenire successivamente ma né la federazione né la Lega intendo lo cambiare il format a 20 squadre il via libera a un campionato in sovrannumero a 21 o a 22 avrebbe dato subito all'Ecco l'accesso alla B ma forse aperto la strada a nuovi ricorsi l'estione Blu Celeste dunque ora nelle mani del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio ma non è finita poi bisognerà attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato previsto addirittura per fine agosto a campionato in teoria già iniziato da una decina di giorni permane comunque l'ottimismo in Casa Blu Celeste nonostante l'incertezza la società sta continuando a effettuare i lavori allo stadio in corso in questi giorni la sostituzione dell'impianto di illuminazione spettacoli spettacoli teatrali all'aperto in contesti di rara bellezza ed eleganza una formula ormai collaudata e vincente per il festival l'ultima luna d'estate giunto quest'anno alla 26esima edizione dal 25 agosto al 3 settembre nelle ville nelle cascine nei parchi più belli della Brianza andranno in scena incontri spettacoli musica e passeggiate letterarie ideato organizzato da Teatro Invito in collaborazione con il consorzio Brianteo Villagreppi il festival sotto la direzione artistica di Luca Radaelli è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e del Fondo Sostegno Arti dal Vivo è inoltre supportato da 12 comuni con il patrocinio del Parco di Montevecchia del Curone e la collaborazione della provincia di Lecco il tema di questa edizione è devianze e diversità un argomento dibattuto nel nostro paese spiega Luca Radaelli la diversità di chi è eccentrico trasgressivo fuori dagli schemi a cui siamo abituati spesso è vista come un ostacolo invece che come una ricchezza gli spettacoli scelti tratteranno questo tema in modi diversi ad aprire il festival il 25 agosto nell'elegante fiabesca Villa Lattuada Casate Novo sarà l'incontro che vedrà dialogare il giornalista Gad Lerner con Walter Magnoni docente di etica sociale all'Università Cattolica di Milano a seguire lo spettacolo Un Best sulla figura di Antonio Ligabue con l'attore premio Ubu Mario Perrotta fra gli ospiti più attesi anche il cantante e attore Peppe Servillo che chiuderà il festival il 3 settembre alla Valletta con lo spettacolo il resto della settimana in mezzo oltre 20 appuntamenti quando una rassegna così longeva un motivo c'è commenta la presidente del consorzio Briantio Villa Greppi Lucia Urbano questo sta nella qualità delle scelte artistiche nella bellezza degli scenari e nel grande lavoro di squadra torna anche il premio Luna Crescente aggiunge Elena Scolari di Teatro Invito le tre compagnie Under 30 selezionate dalla giuria potranno presentare i loro spettacoli con un trailer di 20 minuti sarà quindi il pubblico della serata a scegliere quale spettacolo andrà in scena nell'edizione del prossimo anno per conoscere il calendario del festival www.teatroinvito.it o www.villagreppi.it Grande successo per l'evento Due Passi al Chiaro di Luna spettacolo itinerante che ha animato il giardino botanico di Villa Monastero a Varenna visitatori e turisti hanno potuto assistere alle performance di danza musica e teatro proposte da Sara Battisti con la scuola di musical original people di Bergamo un'iniziativa realizzata dalla provincia di Lecco nell'ambito del progetto di riqualificazione e valorizzazione della storica di Mora e del suo giardino tanti visitatori che li sono lasciati condurre dagli artisti nelle postazioni scelte per le esibizioni dalla danza di Sara Battisti sulle note del violinista Jacopo Iari alla musica celtica della Locomotive Band fino al Salome interpretato dagli attori di Arat Teatro una serata di arte che ha stupito e coinvolto il pubblico con lo sfondo di un bel tramonto sul lago e ora passiamo all'informazione da Monza Ed eccoci con l'informazione da Monza e dalla Brianza vediamo i titoli di oggi nuovi violenti temporali in Brianza hanno provocato altri danni in molti comuni Seregno evacuati due condomini via libera dalle autorità al concerto di Bruce Springsteen nel parco di Monza scoperto dalla Guardia di Finanza un giro di truffe sui bonus edilizi indagate 40 persone sequestrati oltre 32 milioni di euro di crediti fiscali il volano della frode era il bonus facciate 90% globuli bianchi geneticamente modificati per colpire le cellule sane che proteggono quelle colpite da tumore portante scoperta dei ricercatori della fondazione Tettamanti al San Gerardo di Monza vediamo i servizi un altro bollettino di guerra nelle ultime 24 ore nuovi violenti temporali con piogge torrenziali raffiche di vento fino a 100 km orari e grandine hanno messo in ginocchio il territorio causando danni ingentissimi in gergo meteorologico si chiama downburst e ha interessato un territorio piuttosto esteso dell'abrianza inquietante lo scenario odierno in molti comuni numerosi gli alberi caduti uno a Lissone ha colpito e ucciso una 58enne che si stava recando a lavoro a piedi un altro a Monza è piombato su un'auto con a bordo una famiglia di tre persone un uomo è rimasto ferito non si contano le vetture le abitazioni danneggiate dai tronchi sradicati e spezzati come stuzzicadenti dalla furia del maltempo per non parlare dei tetti e delle coperture che hanno preso letteralmente il volo e degli allagamenti con strade trasformate in fiumi e piazze in laghi a Monza è ricominciata la conta dei danni in corso gli interventi di ripristino necessari a riportare piene condizioni di sicurezza 15 le squadre straordinarie allertate dalla servizio giardini operative da questa mattina 150 gli interventi completati durante la notte per rimuovere piante e alberi caduti anche al parco di Monza le squadre con l'ausilio di 45 tecnici forestali hanno effettuato la rimozione di alberi e rami per liberare i viali di accesso verso il prato della Gerascia che ospita stasera il concerto di Bruce Springsteen sentita la prefettura e le autorità preposte alla sicurezza il comune ha dato il suo ok il parco è risultato agibile e le condizioni di sicurezza idonee per accogliere le 70.000 persone che parteciperanno al maxi evento tra i comuni più colpiti dell'abrianza Seregno 22 persone sono state evacuate da due palazzine di via Edison danneggiate dalla caduta di alcune tettoie tutti gli sfollati hanno trovato sistemazione temporanea in attesa di poter rientrare nelle loro abitazioni la grandina ha causato un blackout che ha lasciato in serata la città senza corrente non avevamo ancora finito il giro di controllo su tutti i danni dopo venerdì ci siamo ritrovati con gli effetti di questo downburst di fatto una tromba d'aria che ha fatto diversi danni per poi avere una nuova fortissima grandinata in serata spiega il sindaco Alberto Rossi siamo stati fortunati nessuno si è fatto male questa è la cosa più importante visto anche i fatti di cronaca che hanno riguardato città a noi vicine a cui mandiamo un grande abbraccio è progressivamente tornata la normalità la circolazione dei treni alla stazione di Monza dopo i violenti temporali che ieri e nella notte hanno danneggiato le infrastrutture ferroviarie causando l'interruzione del traffico i tecnici di RFI hanno ripristinato la funzionalità dello scalo che ha ripreso a funzionare pur con alcuni ritardi al momento con una stima davvero provvisoria è certamente destinata a crescere i danni causati dal maltempo in Lombardia negli ultimi giorni superano i 100 milioni di euro ha dichiarato l'assessore regionale alla protezione civile Romano Larussa con il presidente Fontana entro la giornata di oggi chiederemo al governo il riconoscimento dello stato di emergenza vediamo gli altri servizi un vorticoso giro di truffe sui bonus ed inizi la guardia di finanza di Monza ha indagato 40 persone fra le quali un professionista è sequestrato oltre 32 milioni di euro di credito ai fiscali l'ipotesi di reato e truffa aggravata danni dello stato e indebite compensazioni di crediti fittizi il volano della frode era il bonus facciata 90% dopo il sequestro da 90 milioni nella prima metà dell'anno i militari del nucleo di polizia economica finanziaria di Monza hanno approfondito la posizione di un commercialista di Legnano il professionista avrebbe prima acquisito crediti da moltissime persone fisiche poi ceduti a catena per essere monetizzati in un istituto finanziario grazie alle indagini la procura della Repubblica di Monza ha individuato una serie di anomalie a carico di soggetti fra loro collegati una vera e propria organizzazione che per portare a termine la frode aveva costituito 70 realtà economiche fra ditte individuali e società due delle quali consiede a Monza lo scopo di creare un vorticoso giro di denaro alimentato dall'accessione dei crediti fiscali sono circa 25 le persone fisiche ignare dello schema criminale 4 delle quali i residenti a Monza che avrebbero ceduto i crediti per eseguire i presunti interventi edilizi le aziende che avrebbero dovuto eseguire i lavori erano in realtà senza una vera e propria struttura operativa con legali rappresentanti e amministratori gravati da precedenti penali e con oggetti sociali non compatibili con le attività da svolgere alla luce di tutti questi elementi sono 40 le persone denunciate per i reati di truffa aggravata in debite e compensazioni sequestrati 32 milioni di euro di crediti d'imposta giacenti nei cassetti fiscali degli operatori economici individuati è stato attivato anche il RIS di Parma per riuscire a far luce sulla sparatoria di Seregno le indagini hanno permesso di ricostruire che proprio gli uomini a bordo dell'appunto erano stati i primi ad aprire il fuoco tra gli arresti effettuati dai carabinieri negli scorsi giorni dopo i due fermi della settimana precedente a ricostruire quanto avvenuto in via Wagner e le successive attività di indagine il comandante della compagnia di Seregno il colonnello Emanuele Amorosi L'attività investigativa supportata anche dall'analisi tecnico-balistica del RIS di Parma ha conseguito di appurare che i primi ad aprire il fuoco erano stati proprio tra i soggetti ristinitari dell'ordinanza odierna che a bordo della Fiat Punto avevano esploso sette colpi d'armata a fuoco contro il furgone Iveco Deli subendo poi però la reazione della parte avversa che aveva inseguito speronato e a sua volta esploso ulteriori colpi d'armata a fuoco contro la Fiat Punto ferendo il conducente che era alla guida I risultati odierni sono frutto di un'attività investigativa avviata e portata avanti senza sosta dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Monza Brianza e della Compagnia di Seregno immediatamente dopo i fatti dell'11 luglio scorso L'indagine è stata portata avanti attraverso l'analisi di filmati degli impianti di videosorveglianza numerose intercettazioni telefoniche ambientali e attività di osservazione e pedinamento nei confronti dei soggetti indagati Globuli bianchi geneticamente modificati per combattere meglio la leucemia un team dei ricercatori della Fondazione Tettamanti attiva presso il San Gerardo di Monza specializzata nella ricerca sulle leucemie infantili ha sviluppato una versione geneticamente modificata dei linfociti T in grado di intervenire anche sulle cellule sane che proteggono e consentono la proliferazione del tumore la scoperta consentirà di rendere più efficaci le cure contro la leucemia spesso accade che le cellule malate si alleno con quelle sane rendendo i frontiers in immunologi per un trattamento efficace della leucemia mieloide e acuta spiegano Marta Serafini capo unità cellule staminali e immunoterapia della Fondazione Tettamanti e la ricercatrice Sara Tettamanti è necessario superare alcuni ostacoli come il microambiente tumorale che circonda le cellule staminali leucemiche questo microambiente sembra essere un bersaglio terapeutico promettente verso il quale indirizzare nuove strategie di trattamento per combattere la leucemia in aggiunta all'aggressione diretta delle cellule leucemiche lo studio è stato realizzato in collaborazione tra i ricercatori della Fondazione Tettamanti e i colleghi del Centro Bionano Medicina e del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università Milano Bicocca e del King's College di Londra la ricerca è stata finanziata grazie al sostegno di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro del Ministero della Salute e del Comitato Maleria Letizia Verga di quelli che con Luca Onlus e della Fondazione Leopordo e Clara Gori per ora è tutto io vi ricordo che potete seguire le nostre news in tempo reale su teleunica.com trovare i nostri programmi su teleunica.tv e tanti contenuti speciali sui nostri canali social grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi Grazie a tutti